La tutela dell'infanzia è il centro di un protocollo d'intesa firmato a Roma tra il ministro dell'interno Angelino Alfano e il capo della polizia Alessandro Panza e il garante per l'infanzia Vincenzo Spadafora. Lo scopo è quello di sensibilizzare le famiglie, le scuole e le autorità stesse anche a livello investigativo con uno scambio di esperienze e testimonianze sul mondo degli adolescenti sui vari aspetti, dal rapporto con internet al bullismo fino ai reati che coinvolgono i minori come autori, vittime o testimoni. Grazie a tutti.